L'attore Carlo Monni, il coreografo Virgilio Sieni, il Lit FIBA, i giornalisti Fulvio Paloscia e Betti Barsantini, galleristi, stilisti, scrittori, tatuatori, DJ, che hanno lasciato il segno nella Firenze di fine anni 80 e inizio anni 90. Sono i protagonisti della mostra Ritratti, che riunisce i lavori di Derno Ricci fino al 2 dicembre al Museo Marino Marini di Firenze. Il fotografo toscano, scomparso nell'ottobre del 2009, è stato un artista poliedrico e viaggiatore. Per più di 30 anni ha vissuto a Firenze, base per i suoi frequenti viaggi e reportage, in India, Congo, Mali, Afghanistan, Giappone e Stati Uniti. È stato inviato speciale per il mensile Frigidaire, è stato uno dei fondatori di We Staff e il fotografo ufficiale di Linea Verde sul Rai 1 con Sandro Vannucci e Gustibus sul Rai 3. Irving Penn, Nadar, Richard Avedon e Robert Mappeltorp sono stati i suoi maestri. I suoi ritratti, realizzati con lampade a luce continua e una fotocamera Mamia RB67, sono il documento storico di quella Firenze viva e geniale che è stata la culla della New Wave italiana. Bruno Casini, dal vivo e in fotografia, qui al Museo Marino Marini, Derno Ricci. Chi era? Te che l'hai conosciuto? Come te lo ricordi? Derno Ricci è prima di tutto un grande amico, una persona che ha vissuto con me e come tanti altri che sono qui in questa mostra tutti quegli anni straordinari, meravigliosi che erano gli anni 80 di Firenze. Nella notte fiorentina di quegli anni, nei clubbing fiorentino, sceglieva tutti quei personaggi, protagonisti, musicisti, artisti, videomakers, teatranti e li portava a casa e li ritraeva. I ritratti di Derno Ricci erano veramente dei riti magici perché non erano uno scatto e via ma c'era proprio una preparazione, quasi una sorta di creare un'atmosfera data per fare il click. E quindi, insomma, in quegli anni, dalla fine degli anni 80 ai primi anni 90, ha messo in piedi tutti questi ritratti un po' che ricordano un po' la fauna d'arte di origine tondelliana, insomma, questa è la fauna d'arte fiorentina. Come hai detto tu, galleristi, musicisti, teatro. Firenze ha dato veramente tantissimo in quegli anni. c'è ancora questo spirito oggi? Si può andare a ricercarlo? Ma secondo me sì. Io ho visto che proprio negli ultimi anni Firenze ha avuto una grande rinascita culturale, musicale, artistica. C'è tante cose che si stanno muovendo e secondo me anche il 2020, alle porte del prossimo anno, succederanno le cose straordinarie. E, come dire, le persone che facevano all'epoca, 40 anni fa, musica o comunque arte, tutt'oggi sono sulla barricata creativa perché, insomma, le cose di Gianni Maroccolo, di Antonia Iazzi, di Federico Fiumani, Piero Pelù, i Ghigore Inzulli, i Fankov, tante cose che continuano oggi a produrre dischi e a fare tour in tutto il mondo. Un'ultima domanda. Si può dire che gli scatti di Derno tradiscono un grande amore anche per queste persone che lui fotografava, che erano amici o magari persone che lui stimava moltissimo? Sì, è vero. Devo dire che nella scelta di queste 52 foto, in questa mostra fatta con Betty Barsantini e Anna Maria Ricci e Silvio Orlando, Orlando è venuto fuori veramente l'attaccamento di Derno verso questi protagonisti che poi non erano protagonisti ma erano grandi amici di Derno con cui condividevamo non solo gli spettacoli o concerti o il teatro ma anche il vivere insieme tutti quegli anni appassionatamente. Sì, è vero.